Maria Alfonsina Danil Gattas et Maria a Iesù Crucifixo Baudri Santas esse decernimus e definimus Con questa formula in latino, Papa Francesco ha dichiarato sante Maria Alfonsina Danil Gattas e Mariam di Gesù Crucifixo Baudri, domenica 17 maggio in Piazza San Pietro, sul Sagrato della Basilica Vaticana. Insieme alle due religiose palestinesi sono state canonizzate altre due suore Giovanna Emilia de Villeneuve e Maria Cristina dell'Immacolata Concezione Brando Dopo la formula di proclamazione vengono portate all'altare le reliquie delle nuove sante mentre la gioia e la speranza dei fedeli presenti in piazza vengono espresse con il canto dello Jubilate Deo È stata una grande festa, soprattutto per le oltre 2000 persone arrivate da Palestina, Giordania, Libano e Israele una folta delegazione guidata dal patriarca latino di Gerusalemme, Fuad Tual Ci sono i parenti di Maria Alfonsina dal Canada, circa 100 e una ventina dall'Australia Inoltre c'è la famiglia del bambino miracolosamente curato per le intercessioni di Marian Bawardi, venuti dall'Italia Come vedete i numeri sono grandi, dove ci si riunisce c'è festa e dove c'è festa si radunano tutti Nell'Omelia il Papa ha sottolineato l'esperienza diretta e stupenda della risurrezione fatta dagli Apostoli e con loro da generazioni di Santi La nostra fede è legata saldamente alla loro testimonianza come ad una catena ininterrotta, dispiegata nel corso dei secoli Non solo dai successori dagli Apostoli, ma da generazioni e generazioni di Cristiani Ricordando la prima lettera di Giovanni, il Santo Padre ripete Che rimane nell'amore, rimane in Dio e Dio rimane in lui Questo è il segreto dei Santi Questo hanno fatto le quattro sante oggi prochiamate Il riferimento è anche all'opera e al carisma delle due nuove sante palestinesi Suor Maria Bawdry, che umile e illetterata sape dare consiglie e spiegazioni teologiche con estrema chiarezza frutto del dialogo continuo con lo Spirito Santo La dolcilità allo Spirito Santo La resa anche strumento di incontro e di comunione con il mondo musulmano Così pure, Sor Maria Alfonsina Danil Gattas Ha ben compreso che cosa significa irradiare l'amore di Dio nell'Apostolato diventando testimone di mitezza e di unità Maria Alfonsina è un segno, un grande segno per noi Un segno che ci porta a riflettere Allora preghiamo con serietà e coscienza per il rinnovo spirituale Per la nostra vita religiosa Sia a livello personale di ogni suora Sia come intera congregazione Abbiamo vissuto un clima di grande spiritualità Abbiamo così chiesto una benedizione alle sante Per il Medio Oriente, la nostra terra E per tutti quelli che ci hanno chiesto di pregare per loro Al termine della messa Papa Francesco ha rivolto un saluto ai presenti E in particolare alle delegazioni ufficiali di Palestina, Francia, Italia, Israele e Giordania Tra loro c'era anche Mahmoud Abbas Presidente dello Stato palestinese Proprio nei giorni precedenti le canonizzazioni La commissione bilaterale tra Santa Sede e Stato di Palestina Ha raggiunto un'intesa per l'accordo Sulla vita della Chiesa Cattolica in Palestina Che presto potrebbe essere firmato Nel testo l'auspicio anche di una soluzione del conflitto israelo-palestinese Nell'ambito di due stati per due popoli Questo evento è molto importante per noi Ci dice che la terra santa Palestina è una terra di pace e di santi Noi preghiamo per la pace e chiediamo alle due sante Maria di Gesù Crucifisso e Maria Alfonsin Che ci sia la pace nel nostro paese La canonizzazione delle due sante è una proclamazione di fede per tutto il Medio Oriente È stato importante vedere il Papa tra la gente È una persona tanto umile Siamo arrivati con un gruppo di giovani da tutta la Palestina Membri della gioventù studentesca con lo slogan veniamo per essere santi Essere santi con le due sante Giovani belli, ragazzi e ragazze universitari Siamo circa 30 L'atmosfera oggi è molto bella Unisce i cuori nella carità e nella pace Soprattutto la pace e la carità che il Papa ha tanto ribadito Nonostante i massacri, gli sporsamenti forzati Le persecuzioni di cui i cristiani d'Oriente sono vittime Vediamo che Dio in questo momento difficile Sceglie due sante della terra santa Credo che ogni palestinese presente a Roma oggi Si senta orgoglioso di essere palestinese Figlio di questa terra santa Che ha prodotto due sante così grandi e importanti